Noi BJ a qui si tutti i rapidi secondo lo bene che tu conti ok, tu conti no, io ti ho raccontato in inglese io ho buvo suerte in inglese no valia vieni 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 22. Menos malo che si stanno all'implastato un po' Vamo Maria, quanto hai detto? 22 22, 24, 23 No 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 28, 29, 30 45, 45, 45, 35, 35, 32, 34, 35, 48, 35, 36, 36, 38, 39... la pista 7 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 9 9 9 10 10 12 12 13 146 146 146 quattro dice? 46? 46 fatti si campe. Sì, ripasare le conti, che hai 46 Sì Certo che hai 46 La Maria dice 46 E tu 24 Sì, vabbiamo a mettere l'animale e dare le vulti a la tabla Ma prima che non c'è nessuno deba Sì, vabbiamo a mettere l'animale Sì, vabbiamo a mettere l'animale Sì, vabbiamo a mettere l'animale Sì, qui c'è uno 46 Sì 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 Sì